Benvenuti in questo primo appuntamento con Professione Trader. Per chi non mi conosce, io sono Damiano Zito, collaboratore e membro dell'Accademia di IR Forex. Allora, partiamo subito con i grafici. Quest'oggi abbiamo un euro-dollaro che è già in forza. Siamo appunto al 31 ottobre, martedì, e siamo in sessione europea poco prima delle 13, sono le 12 e 15. E il mercato è già su questi massimi, siamo a quota 1,0660, sta registrando un più 0,50 rispetto a ieri. Insomma, un mercato in questo caso molto forte. Euro-dollaro che sto attenzionando per un long, sinceramente, però adesso siamo sul livello dove potrebbe anche solo momentaneamente restare questa salita e poi magari o ritracciare o riprendere anche più nelle ore successive questo long. Allora, quello che mi fa pensare ad un long in questo caso sull'euro è innanzitutto il fatto che dal punto di vista operativo, io dopo la chiusura settimanale mi ero lasciato la possibilità di andare sia long che short. Questo perché? Perché a prescindere da quello che sta avvenendo adesso, io quando ho fatto il piano settimanale eravamo fermi qui, il mercato, quando ho visto la chiusura, mi stava dicendo, mi stava fornendo alcune informazioni. Innanzitutto partiamo dal fatto che noi siamo in una situazione in cui c'è un trend short che però nella prima settimana di ottobre aveva creato questa pinbar. Pinbar rialzista, quindi reversal, anche FTV, molto interessante per un long, che è stata convalidata la settimana successiva, ma con questo trigger FTV short in linea con il trend, che però non è mai stato convalidato. Poi abbiamo avuto un rialzo, questa è un inside, e la settimana successiva, quindi la scorsa settimana, una, se vogliamo, sì, questa è un inside fake out, anche FTV, che però viene convalidata solo alla rottura dei minimi. Quindi, però la tenuta, ecco, la tenuta del 1,05 è sicuramente interessante. Anche perché, seguendo il mercato sul giornaliero, quello che si nota, chiaramente, è che il mercato in questo momento sta facendo fatica a scendere. È vero che siamo in un trend short, però sta facendo una costruzione di minimi molto interessante che potrebbe portare i prezzi anche su, insomma, un pochino più in alto. Quindi, non andando su un mensile, diciamo, rimanendo sul daily in questo momento, o più sul settimanale, l'idea è che il mercato possa creare un rialzo, e che a mio avviso potrebbe nel medio termine arrivare anche a 1,085, però per farlo, chiaramente, c'è bisogno di, appunto, di tempo e mostrare conferme di price action. Allora, per quanto mi riguarda, al momento, io sto cercando un ingresso long. Perché quindi? Perché questa costruzione dei minimi mi piace e perché, studiando le dinamiche di euro-dollaro, mi ricorda molto quello che nel mercato, in maniera anche ripetitiva, ha già fatto, per esempio, nel settembre-ottobre dello scorso anno, proprio in un trend short dopo che ha rotto la parità e ha ripreso, appunto, la sua salita. Per intenderci, vado di nuovo sul settimanale e mi spiego meglio. Allora, noi avevamo, allora, in questo momento abbiamo detto, eravamo su, siamo ancora in questo trend short, Pimbar venutasi a creare la prima settimana di ottobre, che è stata convalidata la settimana successiva con un trigger, in realtà, in linea con la tendenza di fondo, che in questo caso non è mai stato convalidato al ribasso, però era un trigger, che poteva far pensare comunque a continuazioni short del mercato che non ci sono state. Adesso, abbiamo visto nel giornaliero, il mercato sta facendo una, come dire, una costruzione di minimi crescenti molto interessanti. Quindi, prima di andare a vedere confluenze, trigger, eccetera, quello che mi interessava è che questa dinamica ha richiamato, diciamo, alla mia memoria, la dinamica che dopo, appunto, la rottura della parità lo scorso anno, quindi parliamo di questo livello, ok, il mercato è andato a, come dire, a stazionare sotto, però a creare questo tipo di dinamica. Allora, sicuramente anche qui venivamo da un trend short, e il mercato, dopo questo trend short, crea questo minimo, che viene, quindi, tra l'altro una pin bar, o comunque una tail bar, che viene convalidata la settimana successiva, anche qui con una contro pin bar, che è in linea con il, non è inside in realtà, anche se lo sembrava, è in linea con quello che è il trend di fondo, e che può far pensare ancora a una continuazione short. Però, il mercato che cosa fa qui? In questo caso, convalida la pin, ma poi riprendi i minimi. E questo tipo di dinamica, voglio, insomma, riprendola anche qui, diciamo, questo tipo di dinamica mi ricorda molto quello che sta avvenendo nelle ultime settimane. Allora, quindi qui e qui. Queste sono, diciamo, le due situazioni che sto tenendo sotto controllo. È chiaro che il mercato non si può comportare mai allo stesso modo, però quello che mi sta piacendo è proprio la costruzione dei minimi. E quindi, se adesso vado a vedere nel dettaglio del giornaliero, quindi siamo al 26 settembre 2022, è chiaro che anche qui vedremo una situazione, quindi abbiamo detto il 2022, quindi torniamo verso il 26 settembre 2022 e siamo qui, ok. Il mercato, eccolo qui, che cosa fa? Dopo questo, vediamolo meglio in questo modo, il mercato veniva appunto da trend short. Viene da un trend short, ma poi quando arriva su questa zona abbiamo visto che ha creato una tail bar sul settimanale molto interessante, il mercato quindi viene acquistato e chiaramente è ributtato giù. Quindi che succede? Che il mercato praticamente quando crea il rialzo, ovviamente siamo in un trend short e comunque il mercato non si muove mai in una sola direzione, comunque quando va a fare dei rialzi poi viene rivenduto, ma come lo fa? Lo fa con dei minimi che vengono riacquistati. E in questo caso, minimo, false rotture che comunque potrebbero anche generare dei ribassi, ma poi ogni volta che il prezzo ritorna sulle ultime zone di acquisto si riprende. In questo caso aveva fatto questa sorta di doppio minimo tecnico e poi si è ripreso, ma sempre creando delle situazioni sul giornaliero interessanti. In questo caso aveva creato questo doppio minimo, doppio minimo, doppio minimo, rialzo forte, ecco, doppio minimo. Quindi sul giornaliero comunque ci sono state delle informazioni chiare di price action. Ora, ok, questo diciamo solo per dire che cosa mi ricordava quindi questa dinamica di minimi crescenti, ok, mi è stata ricordata appunto dalla dinamica attuale. Tra l'altro, qui, che cosa era successo appunto? Era successo che il mercato venendo da questo trend short aveva da prima tenuto poi rotto la parità viene giù quando riacquista e il mercato non ce la fa tornare sopra la parità ributta giù ma quando torna su quindi rompe il livello importante crea una falsa rottura e poi nuovamente appunto viene riacquistato con volatilità torna su lo ritesta e riparte. Ecco, questo diciamo è quello che fa il mercato. Ora, tornando ai giorni nostri e quindi all'operativa, all'operatività nostra e quindi torniamo sul giornaliero qui abbiamo una situazione chiaramente siamo sul livello diverso periodo diverso il mercato non si comporta mai allo stesso modo però anche qui insomma quello che mi piaceva vedere era come effettivamente il mercato stessa in qualche mondo facendo facendo delle cose analoghe. tra l'altro anche qui il mercato si vede chiaramente come ecco crea delle false rotture questa è una falsa rottura ma poi crea anche in questo caso un doppio minimo tecnico e riparte e rialza e questa mattina ci troviamo in questa situazione. Ora il prezzo sta testando appunto queste zone queste resistenze sono dei massimi questa è una zona praticamente stata recentemente venduta e il prezzo potrebbe effettivamente risentirne però insomma l'idea è che possa dare la possibilità nelle prossime ore anche di fare un ingresso un ingresso si potrebbe fare anche su una dinamica appunto di prezzo seguendo quella che è la struttura settimanale quindi il fatto che sul settimanale io abbia avuto questa pinbar mai 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 fallita in questo momento convalidata il fatto che ci sia la tenuta del del livello 1.0550 in questo momento mi fa pensare al fatto io possa entrare long sull'euro con una posizione da poter gestire per arrivare insomma anche un po' diciamo a gestire un trade un pochino più di medio termine allora questi questo è diciamo sono le estensioni della della pinbar che al momento appunto possiamo vedere come dopo la convalida già testato un po' la zona la zona t3 ritracciata in questo momento sta tornando su a una prima come dire un primo approdo possibile dovesse superare queste zone verso l'10780 e poi l'10850 che potrebbe insomma mi piace in realtà mi piace molto questo livello chiaramente potrebbe volerci del del tempo e se andiamo a vedere un po' il giornaliero anzi proviamo proviamo a fare una cosa e adesso metto i livelli settimanali li metto magari con un blu momentaneamente voglio andare poi sul e dico anche alla piattaforma di vederli anche sull'unità di tempo inferiori perché voglio andare a vedere sul giornaliero la dinamica questa dinamica qui quindi minimo massimo ok se ha delle confluenze come dove ce le ha ok perfetto adesso facciamo un'altra cosa metto il giornaliero con un arancione non si vede benissimo mettiamo un ok questo rosso un po' più scuro e si nota come il il mercato o meglio questa dinamica ha appunto queste allora ecco molto bella la confluenza molto molto chiara è l'10850 quindi questa zona qui quindi il t4 di questa dinamica minimo massimo che si è creato sul daily mi piace molto questa dinamica qui mi piace per come si è strutturata ha appunto avuto il il suo ritracciamento e adesso sta in qualche modo sta in qualche modo dicendo probabilmente diciamo ci sono delle confluenze e delle zone dove posso arrivare ora abbiamo visto quindi questa confluenza e poi ho questa confluenza questo è il t3 col t4 della pinbar quindi sto analizzando la pinbar settimanale e la dinamica questa dinamica sul daily che è una dinamica un po' più lunga rispetto rispetto alla pinbar è una dinamica che in ogni caso mostra come dire facciamo un po' questo perfetto questa è la dinamica daily che sto valutando fa vedere come il mercato da questo minimo raggiunge il suo massimo arriva nella zona di ritracciamento lo riprende torna su poi ancora una volta torna nella zona pullback e adesso sta andando a fare vediamo il tentativo di rottura magari dei massimi precedenti oppure vediamo se farà una falsa rottura allora dal punto di vista quindi operativo io sto mi sto muovendo appunto proprio per cercare un ingresso un buon timing sicuramente per fare un'operazione su euro dollaro se vediamo la dinamica a sei ore vediamo come effettivamente in questo momento il mercato sta mostrando il il movimento bullish di questa mattina quindi proprio voglia voglia di salire quindi un un bel un bel sei ore che chiude tra l'altro fra 30 minuti e quindi in volatilità quindi attenderò adesso a questo punto attendo perché voglio capire cosa succede su su queste zone se il mercato rompe al rialzo questo potrebbe rompere anche pomeriggio allora poi magari posso valutare un ingresso più in alto oppure se data questa volatilità ci sarà adesso possibilità dopo magari qualcosa del genere anche una cosa del genere o più in basso insomma potrei potrei valutarla come come ingresso long non mi piacerebbe chiaramente vedere il prezzo che torna sotto l'10550 in chiusura daily soprattutto perché a quel punto significherebbe che se lui mi torna qui il mercato allora mi sta confermando che questo questo punto questa zona che era stata diciamo l'ultima zona di vendita ma potrebbe arrivare ancora un po' più in alto e come dire una zona di invalicabile anche perché in realtà bisogna fare attenzione a questo punto perché lui potrebbe anche arrivare qui sopra l'107 10710 10720 e creare ancora un'ulteriore price action short che però va gestita a quel punto perché se è vero che c'è questa dinamica comunque su queste zone potrebbe creare anche un doppio massimo lower una pinbar una candela di esaurimento però bisogna vedere come lo fa con che volatilità e quindi come gestire la posizione per questo che sto cercando di valutare l'ingresso al momento e quindi diciamo questa è la situazione sull'euro mi sono dilungato un po' tanto però se andiamo a vedere sulla sterlina la sterlina praticamente sta tenendo l'1,21 sta costruendo i minimi con più lateralità non allora è forte rispetto al dollaro da ieri sicuramente sta tenendo questo minimo va bene però ancora è piatta il settimanale io ho un piano solo short al momento sulla sterlina perché rispetto all'euro è vero che non è fallito questo questo setup però rispetto all'euro è un pochino più più debole molto evidente questa cosa qui quindi vediamo che il mercato aveva convalidato la pin rimane più debole rimane sotto al livello insomma ancora necessita di maggiori conferme mentre l'australiano l'australiano aveva chiuso il settimanale con questa candela diciamo anche di decisione però sempre sopra 0,63 effettivamente diciamo che la tenuta di 0,63 va vista andava vista un pochino meglio secondo me nel mio piano operativo perché ho dato più fiducia in questo caso a quello che stava dicendo un po' probabilmente solo questa candela cosa voglio dire voglio dire che se vado a prendere il mio piano operativo e quindi questo avevo mi sono reso conto che ecco il mio piano diceva solo solo short abbiamo quindi una un'upside bar cambio che rompe l'inside quindi l'inside del park era questa va bene porta il prezzo sotto 0,63 da cui ha poi ritracciato quello di mercoledì sembra l'ultimo tentativo di rialzo fallito e quindi il mio piano rimane short nel daily nella giornata di venerdì il prezzo non è riuscito a mantenere il rialzo quindi quando ho fatto il mio piano questa candela chiaramente non c'era questa è lunedì 30 ottobre probabilmente sono stato influenzato da solo da questo tentativo di rialzo non non riuscito e secondo me nel nel caso in questione doveva ancora considerare questa cosa qui il fatto che 0,63 un po' come era l'10550 per l'euro fosse ancora attenuto poteva lasciare la possibilità di di avere un piano anche long in questo caso anche perché insomma 0,63 è proprio il livello che è vero che lui nella giornata di mercoledì aveva fatto questo questo doppio massimo lower close c'era chiuso sotto eccetera però poi l'ha recuperato lo recupera e insomma l'idea l'idea che possa adesso andare a rialzo ci sta ancora chiaramente lo sto dicendo perché vedo il mercato bullish in questo momento ma più che altro mi sto ripetendo tutto ciò anche perché probabilmente nel mi sono reso conto che nella fase del mio piano non ho considerato l'eventualità di un ritorno di forza dell'australiano ma poco importa e invece è molto interessante USDN perché è l'altro mercato che sto attenzionando per fare un ingresso long USDN allora sto aspettando oggi il martedì 31 ottobre abbiamo detto quindi fine mese però potrei potrei pensare domani se chiude in questo modo di fare un ingresso e con io ho una view qui che va sul medio periodo da un po' di tempo che diciamo che va su zone 156 155 e mezzo da un po' di tempo e quindi l'idea è che il mercato possa possa fare questo questo rialzo facendo attenzione chiaramente al massimo 152 che è questo che insomma in qualche modo potrebbe potrebbe sentire però diciamo che l'ingresso potrebbe essere fatto in maniera tale che se lo parzializzo o questo va dritto su oppure insomma mi tengo un po' di come dire di spazio per poter poi successivamente incrementare comunque interessante perché il settimanale era arrivato praticamente a fine settembre con come dire con questa con questa pin barra sui massimi che aveva creato appunto una volatilità che ha fatto compressare un po' il prezzo rimasto in congestione sono rimasto ad osservarlo praticamente in maniera flat nelle scorse giornate però adesso questo ritorno di volatilità al rialzo è molto interessante quindi abbiamo visto finora che effettivamente il dollaro era debole sicuramente sull'euro però è forte sullo yen potrebbe continuare invece questo suo rialzo tipico di USDN poi avevo lasciato sul mio piano USDCAD perché USDCAD rompe la zona di 1,38 e potrebbe rimanerci sopra abbiamo questa questa zona qui ora l'idea l'idea è che lui possa ritracciare poi eventualmente posso valutare un long questo è un mercato che entra e esce dal mio piano operativo al momento però non non ho niente se non il fatto che lui possa magari anche rompere questa questa inside poi magari ecco se mi fa una tenuta qui dopo magari una o due giornate allora potrei valutare il long però dipende anche dalla mia situazione di portafoglio sul gold invece una view long esclusivamente long anche se potrebbe ritracciare però quello che stavo notando è che allora questo è un mercato che solitamente è correlato molto con USDN quindi USDN che sale in realtà mi fa propendere verso un un oro short però diciamo nell'ultimo periodo si è un po' decorrelato quando lui saliva in realtà il dollar americano rimaneva fermo e diciamo che il mio piano operativo prevede un long almeno finché il prezzo rimane più o meno entro queste zone cioè quello che sto dicendo è che lui può fare anche questo e poi successivamente se mi crea un setup intorno a 1960 comunque mi tiene 1950 1960 la mia idea è entrare long è chiaro che lui da qui può anche fare direttamente una sparata ancora al rialzo però non so se andrò a fare un ingresso su questi massimi siamo in zona 2000 con il dollaro forte sullo yen sinceramente sul petrolio ho al momento una view di questo tipo cioè vorrei vedere siccome sta tenendo la zona 82 quella che sto monitorando che cosa è successo qui abbiamo un mercato che dopo questo ribasso avvenuto in una situazione settimanale ancora long lui ha avuto un ribasso però è tipico del petrolio avere anche questi movimenti bruschi e poi delle riprese la mia idea è qui allora sul piano forse l'ho anche scritto la mia idea comunque adesso ci troviamo su usuario 82 e cercare un long tant'è che io ho messo solo long sul mio piano operativo con diciamo la possibilità appunto di vedere magari una falsa rottura proprio di dei livelli attuali oppure un ritorno di forza e poi insomma uno swing più avanti però diciamo che su questa zona su questa zona potrei valutare che ne so una falsa rottura e un recupero potrei anche valutarlo come come acquisto anche perché qui il mercato dopo il ribasso ha tenuto ha fatto questo anche qui lo più minimo tecnico se vogliamo quindi rialzo poi torna giù tiene adesso ieri è venuto al ribasso tiene ancora con un mini mini spike vediamo dovesse dovesse fare questo recupero sarebbe il massimo che possiamo chiedere al petrolio oppure oppure anche un recupero pieno insomma poi quindi che mi mostra tenuta di 82 torna magari sopra 85 85 e mezzo insomma potrei potrei valutare un un ingresso e infine gli indici S&P 500 che insomma sta recuperando da questi minimi mercato che si sta muovendo praticamente in territorio short da da settimane adesso diciamo che visto il movimento che si è creato potrebbe creare lui potrebbe tornare verso l'area 4000 4000 3000 4250 sicuramente e poi poi valuterei a quel punto una volta arrivati in quell'area se ci sono delle dinamiche dei trigger short anche dei ritorni di operatività corta anche sulla Germania quindi sul DAX il mio piano è rimasto praticamente short su entrambi gli indici siamo arrivati poco sopra l'area di acquisto o meglio poco sopra il livello che ho segnato però siamo già in area di acquisto vediamo un po' come sul giornaliero qui ieri abbiamo avuto questa questa inside l'ultimo movimento ribassista è stato venerdì poi è stato recuperato adesso effettivamente ci potrebbe essere un allungo almeno fino ai 15.000 ma anche anche più più in alto quindi questa è la situazione sui mercati questa è la mia analisi la mia idea è quella di attendere per per un long su euro e probabilmente su sullo yen vedrò domani com'è la situazione quindi attenderò la chiusura di oggi almeno sullo yen sull'euro sull'euro ci sto ragionando ci sto ragionando e nel caso insomma vedremo l'operazione la prossima settimana sul diario di trading quindi io vi ringrazio per aver visto questo video fino fino in fondo mi raccomando lasciate un mi piace o un commento al video per suggerimenti e vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto attivare la campanella e ci vediamo alla prossima puntata vi ringrazio vi saluto buona giornata ciao buon trading grazie a tutti